L'Istituto Battisti non vuole perdere la propria autonomia, confluendo in un solo polo didattico di carattere tecnico che riunisca anche Olivetti e Volta. Visto il piano della riorganizzazione scolastica, si chiedono come possa un solo dirigente su più istituti e su plessi diversi garantire un miglioramento dei servizi. Già provati da continui tagli ministeriali, riforme e controriforme, i docenti lanciano una proposta che non solo metterebbe in sicurezza la scuola ma permetterebbe anche un risparmio economico. Il suggerimento è quello di trasferire il bienio dell'Agrario Cecchi di Pesaro nella sede succursale del Battisti a San Lazzaro di Fano. Quaggiù abbiamo aule vuote, laboratori di prim'ordine, palestre, tutte le strutture necessarie per una scuola, purtroppo sono sottoutilizzate, quindi non capiamo perché bisogna spendere tanti soldi per riaprire il CODMA, quella struttura che ormai è chiusa da anni e sicuramente avrebbe bisogno di parecchi soldi come investimento, quando quaggiù abbiamo delle strutture pronte a costo zero, costo zero per tutta la collettività. Per quanto riguarda il piano studi inoltre sia il bienio del Battisti che quello del Cecchi hanno materie per la quasi totalità uguali e quindi nell'Istituto Fanese sarebbero già presenti anche i professori. La nostra non è una proposta contro qualcuno, noi vogliamo la collaborazione dell'Istituto Tecnico Agrario Cecchi per aprire solamente qui due anni, poi nel triennio ci sono delle specificità che non ci appartengono, quindi i ragazzi dopo aver fatto il percorso del bienio qui da noi andranno tutti al Cecchi. Ne avete già parlato con il sindaco, con la provincia? Abbiamo fatto una proposta al sindaco in primavera, non ci è arrivata risposta, abbiamo avuto un altro incontro in ottobre, però la risposta sembra sempre che il CODMA ormai è andato troppo avanti, ma non si capisce cosa vuol dire questo troppo avanti, noi vorremmo solo che la collettività capisse che qui ci sarebbero le stesse opportunità a costo zero.